L'impatto è stato ottimo sicuramente sia per quanto riguarda la società, sia per quanto riguarda staff e compagni di squadra. Stiamo lavorando bene, con intensità, con qualità, quindi proseguiamo così. Intanto altra amichevole casalinga, altra doppietta ovviamente, questo chiedono a te i tifosi e la squadra. Al di là di questo iniziamo a conoscersi un po' di più e qualche trama di gioco si riesce a intravedere maggiormente rispetto alle altre uscite. Come va l'inserimento all'interno del gruppo? Ottimo, tutti i ragazzi mi stanno mettendo molto a mio agio, quindi va sicuramente bene. È stato diramato il girone, sono stati diramati anche i calendari, è un campionato dove non c'è magari la grande favorita che poteva essere l'anno scorso, il Foggia quest'anno, però è un girone equilibrato con delle squadre magari più forti di altre. Noi penso che dobbiamo pensare solamente a crescere noi stessi come squadra, che andremo ad affrontare ogni partita è diversa, gli stati di forma sono sempre diversi partita dopo partita, poi normali ci sono squadre più attrezzate, dobbiamo fare il nostro campionato, diventare squadra prima possibile e poter dire la nostra.